E' stato ripreso tutto quanto, tra l'altro gli imputati non erano conoscenza del fatto che noi avessimo questa registrazione, infatti c'era uno dei due in aula tutto bello sorridente, è arrivato poi quando è stata da fuori questa cosa ha cambiato espressione. Si vede tutta la scena? Si vede tutta la scena perché quella è una telecamera che noi ci portiamo nel caso in cui prendessimo le botte, questa volta è successo e quindi abbiamo la registrazione integrale di tutta la scena. Una telecamera nascosta che ha ripreso ogni istante dell'aggressione, un colpo di scena che nessuno si aspettava, immagini che il legale delle vittime vengono proiettate in aula alla prossima udienza. I fatti risalgono al 2019 quando la truppe delle Iene si era recato a Giavera del Montello per intervistare padre e figlio gestori di una trattoria della zona su presunte inadempienze contrattuali legate ad eventi soprattutto relativi alla degustazione di vini. E' successo che abbiamo fatto delle domande anziché delle risposte o delle non risposte che potevano pure arrivare, sono arrivate delle botte e la sottrazione del materiale. Così l'inviato delle Iene è Massimo Cordaro che ripercorre quei momenti drammatici quando lui ed il cameraman furono colpiti con calci e pugni. Tante botte, tanti calci, tanti pugni, però fa parte dei rischi del mestiere, ovviamente se non succede è meglio, per me era la prima volta, non che ci tenga a che risucceda, però l'importante è che fortunatamente abbiamo la registrazione. Non solo, ma gli aggressori avevano anche sottratto la telecamera restituta solo all'arrivo dei carabinieri ma completamente distrutta e senza la schedina di memoria. Una deposizione che ha portato all'aggravamento delle accuse nei confronti di padre e figlio, il pubblico ministero Massimo De Bortoli ha infatti modificato il campo di imputazione contestando anche il reato di rapina aggravata. Siamo molto contenti e speravamo che la procura integrasse il capo di imputazione e all'esito delle domande che sono state poste oggi in udienza, il pubblico ministero effettivamente ha ritenuto di contestare il reato di rapina aggravata. La prossima udienza è stata fissata per il 18 gennaio 2024. La prossima udienza è stata fissata per il 18 gennaio 2024.